Polva Slavic, nel suo libro intitolato Pragmatica della Comunicazione Umana, edito nel 1967, definisce alcuni principi della comunicazione. Nel 1975, qualche anno dopo, Richard Bandler e John Grinder scrivono il libro La struttura della magia, che insieme alla pragmatica della comunicazione sancisce la nascita della comunicazione moderna. Ma quali sono i principi della comunicazione? Il primo principio è che non si può non comunicare. Tutto è comunicazione. Cioè, il solo stare al mondo fa sì che, qualsiasi cosa facciamo o non facciamo, gli altri capiscono qualcosa di noi. Il secondo principio è che ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione. Il contenuto riguarda ciò di cui parliamo, mentre la relazione riguarda il rapporto tra chi parla, che può essere simmetrico, cioè tra pari, oppure asimmetrico, cioè basato sulla differenza di ruolo. Il terzo principio è che la comunicazione avviene sia con il modulo digitale, che riguarda i contenuti, sia col modulo analogico, che invece riguarda la relazione. Il modulo digitale significa regole, grammatica e numeri, e riguarda prevalentemente la comunicazione verbale, mentre il modulo analogico significa istinto, cioè voce e corpo, e prende in considerazione la comunicazione non verbale e paraverbale. Se ad esempio conosci qualcuno che ti dà la mano dicendo piacere, ma con un tono di voce monocorde e non mettendo energie, per esempio, nella stretta di mano, immagina, non lo so, la classica mano moscia, che idea ti fai di quella persona e della relazione che vuole instaurare con te? Albert Merabian, in un suo studio del 1967 sul linguaggio del corpo, individua una regola generale sull'impatto della comunicazione, e in particolare il suo studio verte sulla comunicazione verbale, paraverbale e non verbale. Quello che scopre è che la comunicazione verbale incide nella comunicazione per il 7%, la comunicazione paraverbale incide per il 38% e la comunicazione non verbale incide per il 55%. Quando parliamo di comunicazione verbale ovviamente intendiamo le parole. La comunicazione paraverbale riguarda invece il come noi usiamo la voce, quindi il tono, il timbro, l'intensità, l'accento, il volume. La comunicazione non verbale invece riguarda le espressioni facciali, la mimica, la gestualità, l'abbigliamento. La morale è che il nostro comportamento comunica molto molto più delle nostre parole. Attenzione però, la regola del 7, 38 e 55 è solo una regola generale. L'importante è verificare la congruenza nella comunicazione, cioè l'allineamento tra la comunicazione verbale, non verbale e paraverbale, ovvero sia verificare che quello che dici e come lo dici siano fra loro coerenti. Per introdurre il prossimo principio facciamo un gioco. La sfida per voi è unire i nove punti con quattro linee rette, cioè con quattro righe dritte, senza staccare la penna dal foglio e senza ripassare indietro sulla stessa linea. Appena hai finito di fare questa esercitazione, passa alla seconda parte del video.